Ci sono voluti quattro anni e un mare di vicessitudini, tra questi la crisi aziendale dell'impresa Brunelli che aveva in carico l'appalto dell'Opera, ma alla fine il taglio del nastro dell'ultimo tratto della variante Flaminia, quello tra la zona industriale nord di Gualdo Tadino ed Osteria del Gatto nel comune di Fossato di Vico, c'è stato un taglio liberatorio, oltre che festoso per Anas, ente finanziatore dell'Opera per 9 milioni 600 mila euro, rappresentata per l'occasione dal direttore generale tecnico Alfredo Baglio e dal capo compartimento Umbria Raffaele Spota, non meno che per la regione con la presidente Catiuscia Marini e l'assessore Silvano Rometti. Si chiude così un cantiere, quello dell'8-6 bis della strada statale Flaminia-Foligno-Ostria del Gatto, progettato e finanziato nel 1998 all'indomani del sisma di Umbria e Marche, una strada, la Flaminia, che nasce a suo modo già vecchio a due corsie, ma realizzata, hanno spiegato i tecnici, in modo tale da poter prevedere in futuro il suo allargamento a quattro, ipotesi sulla quale Anas stessa non ha chiuso la possibilità. Il raddoppio intanto, diciamo, per precauzione è stato previsto, però il raddoppio, soprattutto in termini nei momenti in cui l'economia è sotto gli occhi di tutti, il raddoppio deve essere economicamente costruito ed essere economicamente valido. Noi siamo pronti, se l'economia si svilupperà in maniera particolare, oggi i dati di traffico non giustificano un raddoppio, però, nel caso in cui gli sviluppi, e ce lo auguriamo tutti, siano in positivo, siamo pronti per farlo. L'occasione dell'inaugurazione, che ha visto la presenza anche dell'assessore provinciale Caprini, del sindaco di Gualdo Morroni, del vice sindaco di Fossato Fabrizi, è servita per fare il punto della situazione sulla direttrice Perugia Ancona, che la Flaminia va ad intercettare ad Osteria del Gatto. Baio ha annunciato la fine lavori del tratto Valfabbrica a Casa Castalda entro giugno 2014, con relativo raddoppio delle gallerie, per il quale è pronto il bando da 7 milioni di euro, che individuerà la ditta appaltatrice. Più complessa, la vicenda per il tratto gestito da quadrilatero, dove ancora non si è trovata una soluzione alla crisi di imprese S.p.A., ma, ha affermato la Presidente Marini, stiamo seguendo il caso con grande attenzione per dare a questa regione uno sbocco al mare. Benedizione affidata al vicario generale della diocesi di Assisi, Nocera e Gualdo, Monsignor Saba, con un pensiero particolare a quanti percorreranno questa strada, ricordando i tanti che già hanno perso la vita sui tratti da Foligno a Gualdo. Chiusura con polemica silenziosa di un militante gualdese del Movimento 5 Stelle, che ha alzato il cartello con su scritto Finalmente.